Donne, un applauso eh, facciamo sempre gli applausi Vincenzo, poi Vincenzi, Giulio, Giulio, perfetto Allora, maschietti di fronte, benvenuti, ci disponiamo Ci disponiamo, vedete qua, una di chiacchia con l'altra Distanziatevi, distanziatevi Ok, maschietti, scegliete la vostra partner Allontaniamoci, un attimo allontaniamoci No, maschietti, voi restate qua, scegliete la partner No, no, sempre qua, mi chiedete Vincenzo, uno, scegli la tua partner e mettiti di fronte Vincenzo, due, scegli la tua partner Non c'è altra scelta Allora, se vi abbassi un po' l'audio Ora voi Vi abbassi un po' l'audio, Cristian, vai, vai, vai Allora, cosa dovete fare con questo laccio Allora, dovete infilare questo laccio E i pantaloni nel massietto Dovete fare con questo laccio Dovete fare con questo filo e i pantaloni Il primo che prende il filo, cioè la prima che prende il filo, vince Chi perde paga il pelo, quindi paga tutta la festa Va bene, non scherzo La signorina non ha compreso Allora Prendi questo filo C'è un bottone C'è un bottone Signorina C'è un bottone Andiamo dal maschietto Il maschietto sta fermo Sottolinea che deve stare fermo Gli alza la maglia Gli infila i pantaloni Lo fa fuoriuscire Si prenota Va bene? Al mio via Tre Prendiamoci da qua Due Che fai? Ti sbottoni? Ci sono dei migliori Ci sono dei migliori 18 anni? Hai 18 anni? Ecco Quindi Cristian se non ci restano ora non ci restano più Tre Due Facciamo così I maschietti alzano le mani Va Almeno alza le mani Tre Due Uno Via Volevoce Maschietto alza le mani Non puoi Non puoi Attenzione Veloce No maschietto no No maschietto no No maschietto no No maschietto no E' mettere le braccia No maschietto no Piccata un po' la sacco dentro Faccia piano eh Dirà un po' di Veloce 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 No maschietto no Mi raccomando Vai vai Non ti raccomare No скую ersend Party Provo Veloce Del Roboce Pasto improved Ma ips You Pasto andate le braccia e chi? state uscire state uscire veloce veloce va bene? una una seconda vediamo chi vince le due no maschetto non ti preoccupare e te ne compri uno nuovo due stop allora bravi tutti fatevi un applauso veramente si sono messi in gioco grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti